Il pronto soccorso oggi spesso è l'unico luogo dove i cittadini si rivolgono e nel 50% dei casi crediamo che le risposte invece possano essere trovate nell'area per esempio delle cure primarie. Noi stiamo investendo sul territorio però è solo una complementarietà di questi due sistemi, quindi territorio e l'ospedale e in particolare il pronto soccorso che potrà rendere un servizio migliore ai cittadini. Quindi vogliamo cogliere questa occasione proprio per sensibilizzare i nostri cittadini all'utilizzo appropriato e migliore del pronto soccorso perché questo è l'interesse di tutti. Noi vogliamo passare dalla cura dei nostri pazienti al prendersi cura dei nostri pazienti per curare con cura. Siamo molto entusiasti del percorso che abbiamo avviato qui nella nostra azienda. È partita la prima Casa della Salute il 15 dicembre e ci siamo impegnati perché entro il dicembre del 2015 parta la seconda Casa della Salute che è prevista nella nostra programmazione e nella città di Rieti. È un'occasione importante perché l'esperienza che abbiamo accumulato nella progettazione e realizzazione della Casa della Salute di Magliano ci aiuterà molto ma il modello che noi proporremo su Rieti sarà diverso, sarà sicuramente diverso perché un contesto urbano prevede delle caratteristiche diverse e forse avere una Casa della Salute a Rieti che è proprio la sede dell'ospedale e quindi del pronto soccorso forse ci aiuterà a chiarire meglio i percorsi ed essere ancora più disponibili ad accogliere i nostri cittadini nel luogo giusto.